Buon pomeriggio a tutti io sono Matteo Bordone e eh e stamattina mi sono fatto un tampone quindi sono senza mascherina ma i convenuti non saranno a distanza le maestranze la casetrice per Borea sì quindi sono felice di essere tamponato e negativo ma i convenuti di questo nostro incontro saranno eh in collegamento remoto quindi comunque sia sarebbero stati al riparo eh oggi parliamo di un autore eh del quale Iper Borea eh mi ha chiesto di occuparmi qualche mese fa ehm perché appunto Pietro e la casa editrice intera diciamo che è piccola e tenace ma insomma le voci si si corrono abbastanza rapidamente eh sapevano quelli di Iper Borea che io ero rimasto molto colpito da alcuni libri di Stig Dagerman che mi erano stati consigliati e poi le parleremo con con gli ospiti proprio come si fa con gli autori di culto cioè Stig Dagerman è un autore svedese che ha scritto per molto poco tempo e anche vissuto per per poco tempo e che però ha questa ha questa caratteristica cioè è molto difficile che lo si che lo si apprezzi per un libro è molto più facile che lo si abbracci in toto come capita agli autori di culto perché ha diverse peculiarità nella voce nella allo stesso tempo è estremamente duttile estremamente versatile e con una voce molto riconoscibile con dei temi ricorrenti e una certa eh sincerità onestà nei modi nel nello sguardo nell'intenzione che se conquista conquista a lungo eh dicevo quindi alla fine del dell'annus orribilis eh mi hanno chiesto di realizzare un podcast su commissione non l'avevo mai fatto proprio dedicato a un libro in uscita di Stig Dagerman libro che poi è uscito e che era il suo era stato il suo primo era stato il il suo esordio si intitola il serpente ed è un libro molto particolare che all'uscita fu eh giudicato l'opera di un esordiente da tenere d'occhio e trasformò eh Dagerman in un autore decisamente importante nella Svezia del tempo ma vorrei parlarne con gli ospiti e quindi vedo se ci sono Giorgio Fontana eh e Andrea Staid inizierei da Giorgio Fontana se possibile ciao Giorgio benvenuto come va? Ciao Matteo tutto bene grazie Giorgio è uno dei è una delle persone che ho coinvolto fra la fine dell'anno e gennaio proprio per eh costruire questo questo podcast soprattutto fatto di testimonianze di persone che avevano incontrato Dagerman e ne erano rimaste folgorate e quindi devo dire che ho trovato grande passione all'idea di parlarne che è una cosa tipica degli autori eh così che diventano di culto allora ti richiedo quello che ti ho chiesto chiesto nel podcast perché secondo me per per Dagerman è importante come l'hai conosciuto e che cosa ti ha colpito quando hai letto per la prima volta Stig Dagerman molto prima del serpente? Allora ricordo perfettamente avevo letto eh una puntata di una rubrica di uno scrittore italiano a me molto caro che è Marco Mancassola eh teniamo una rubrica di consigli letterari ehm nella quale consiglio appunto i libri di Dagerman l'ho scritto Dagerman in generale come dicevi tu è uno che una una volta assaggiato se ti piace quel gusto vorresti eh sempre averlo con te averlo letto tutto eh incuriosito eh cercai quel poco che allora parlo di veramente parecchi anni fa si trovava eh pubblicato di Dagerman e eh con grandissima eh impressione lessi eh se non ero il nostro bisogno di consolazione poi giochi della notte e rimasi fulgorato perché davvero come diceva Mancassola è uno scrittore la cui purezza la cui eh sincerità la cui tensione linguistica si avvertono immediatamente e Marco ricordo che nel pezzo diceva uno scrittore che al giorno d'oggi morirebbe quasi a contatto con l'aria da tanto l'aria si è deteriorata poi non so forse anche all'epoca non era purissimo però ecco colpisce davvero questa sua caratteristica e poi con il tempo sono andato approfondendolo e imparando ad amarlo sempre di più. Allora il il Serpente che è il suo eh il suo disco il suo eh romanzo il suo libro d'esordio del 45 è un libro di un 22enne che di un 22enne forse diciamo non sembra perché o o paradossalmente sì è un libro decisamente complesso nella struttura e nello stile e allora ne approfitto per coinvolgere Andrea Stide e e chiedere a lui quando ha scoperto prima di tutto salutarlo ciao Andrea eh chiedere a lui quando ha scoperto eh Stig Dagerman e eh se vogliamo cominciare a parlare del Serpente eh insomma la da un da un antropologo vorrei sapere che che effetto ti ha fatto la rappresentazione delle gerarchie della vita militare e della condizione collettiva di 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 paura della guerra diciamo che è uno degli elementi di questo romanzo. Sì io vabbè intanto saluto tutti e tutte grazie per avermi invitato eh saluto Giorgio che è un caro amico e non ci vediamo da un sacco. Ciao Andrea. Ci vediamo in questo modo surrogato però sì Stig Dagerman io l'ho incontrato come ho insomma come ho appena dichiarato pubblicamente in un mio pezzo su Dagerman devo essere sincera l'ho incontrato perché Pietro di Iperborea oltre a essere un grande amico eh ha avuto una funzione da spacciatore cioè da spacciatore proprio di eh con l'immagine anche un po' falsa dello spacciatore no? Quella eh che ti davano la droga nelle figurine quando andavi alle elementari non so se avete presente. Ecco. Lo stereotipo dal quale guardarsi eh anche com'è andata così anche com'è autunno tedesco tipo allungato un po' così prova prova. Quindi Pietro ha avuto questo Pietro non mi vorrà più parlare però è la verità e quindi Pietro mi ha proprio io lavoravo già in editoria quando insomma è successa questa cosa ormai più di dieci anni fa e mi passa il nostro bisogno di consolazione e io rimango folgorato. Rimango completamente folgorato e tu hai perfettamente ragione. Per me Dagerman è diventata addirittura io oserei dire più che occulto un'ossessione nel senso che io appena ho qualcuno che mi chiede di parlare di Dagerman sono ben felice di farlo tanto che più o meno direi che ho recensito praticamente tutti i suoi libri. Cioè nel senso che proprio lo amo lo amo profondamente. L'amo profondamente anche perché sono un antropologo nel senso che io sono convinto che l'antropologia non debba essere soltanto quella della dell'accademia quella scritta in modo estremamente scientifico e per pochi ma che sia anche quella della divulgazione della comprensione dei fenomeni importanti che accadono a Homo sapiens importanti e a volte anche tragici e il serpente ci racconta la tragedia secondo me che Dagerman ha vissuto fra fra le due guerre che come Dagerman non è vissuto in tanti. Questa tragedia possiamo in modo sistematico e veloce ridurla secondo me a tre grandi cose. Uno appunto è l'errore del militarismo della gerarchia del mondo militare la guerra mondiale quindi la morte e la tragedia della guerra che aveva distrutto eh vite eh paesaggi eh professioni e poi l'altra grande sconfitta che non è Dagerman ha subito per me perché poi ritorna in tanti suoi scritti che è quella della della sconfitta delle idee delle idee libertarie di cui lui era completamente eh parte e quindi sicuramente la guerra civile spagnola o il periodo delle collettivizzazioni o la rivoluzione chiamiamola come vogliamo ognuno ha un suo modo di chiamare quegli anni che vanno dal trentasei al trentanove tendenzialmente ecco Dagerman fa tornare sempre più o meno nei suoi lavori questo discorso della eh della guerra eh contro Franco insomma e qui e tutto quello che era successo in quel periodo. Quindi il serpente mh parla anche di questo ma soprattutto per come io l'ho letto eh è proprio un un'immagine eh antropologica cioè è proprio una una costruzione dell'umano militare dell'umano nella guerra della paura ovviamente poi non voglio svelare subito tutto perché insomma dialogheremo su questo testo però è è proprio una fotografia in movimento di quello che stava succedendo di quello che è successo e soprattutto di quello che rappresenta lo Stato e il militarismo. Allora cominciamo a parlare di 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 questo libro ricordando sempre che dobbiamo diciamo non stiamo parlando di una serie tv quindi non c'è il rischio puro dello spoiler vertiginoso che in questa forma narrativa diciamo non nuova ma che in questi ultimi anni è diventata importantissima purtroppo è diventata una cosa quasi religiosa per cui la trama e la conoscenza della trama sono qui vi chiedo di essere cercheremo di essere tutti abbastanza discreti da non rovinare la lettura a chi non l'avesse ancora preso allo stesso tempo un pochino di cose le possiamo raccontare con discrezione e comincerei con con giorgio a parlare un po dello stile perché il dagerman che noi conosciamo che in genere un amico caro qualcuno a un certo punto spaccia nella forma di un libro alto così che tu dici ma sì che è il nostro bisogno di consolazione te lo sfogli e senti proprio che qualcosa si sta aprendo e poi da lì sei fregato quel dagerman lì è un dagerman straordinariamente asciutto nello stile e in qualche misura ineluttabile proprio è una scrittura con il cuore pulsante in mano di indiana jones e il tempio maledetto proprio senza paura di niente che parla della morte del dolore dell'abbandono della solitudine con quella con quella anche della gioia di vivere dell'esistenza degli angoli della vita è però sempre con quella pulizia ineluttabile questo dagerman qui degli esordi del 45 invece ha una scrittura che è quasi una scrittura a tratti può sembrare nell'esposizione barocca nel mescolare la realtà o metafisica nel mescolare la realtà i pensieri l'immaginazione i simbolismi in un flusso che devo dire deve essere stato anche decisamente complesso da da tradurre Fulvio Ferrari che è stato fondamentale nella realizzazione del del podcast ha fatto un lavoro mi sembra soprattutto molto complicato nel così nel dipanare questa matassa senza svolgerla troppo come ti è sembrato lo stile di questo di questo strano romanzo a pezzi che è il serpente sì è un punto essenziale in effetti come ricordavi tu il il dagerman più noto finora in italia quello di bambino bruciato il nostro bisogno di consolazione giochi della notte a quella che graham green chiamava la sua meravigliosa oggettività e la paragonava a un certo cinema nordico se vogliamo quindi a certi paesaggi bergmaniani e così via uno poi apre il serpente come poi succede anche per il secondo romanzo di dagerman ma concentriamoci sull'esordio e ha una sensazione forse un pochino di shock per cui c'è uno stile che è molto diverso è fatto è ispirato al modernismo chiaramente anche qualche indulgenza barocca non cade mai nell'eccesso non cade mai nel surrealismo ad esempio non cade mai nel come dire nell'avanguardismo fine a se stesso tant'è che fulvio ferrari nella postfazione fulvio ferrari è stato cruciale anche per la ricezione di dagerman in italia sottolinea che la perizia tecnica dimostrata da questo autore che ricordiamo pubblicò il libro a 22 anni ed è davvero qualcosa di formidabile ecco la perizia tecnica non è mai fine a se stessa non si esaurisce nel puro gesto stilistico di sconvolgimento del lettore quindi è vero che la lingua e il fraseggio in generale sono molto più ricchi sono anche più diversificati c'è un grande una grande varietà di stili di linguaggi di toni di espressioni all'interno del libro e quindi è vero che questo segna uno stacco molto forte rispetto a quello cui magari uno è abituato ma è molto affascinante anche per questo motivo leggere il serpente perché fotografa il lo stato dell'arte del dagerman giovanissimo del dagerman che esordisce e impone subito una voce nuova e dall'altro è molto interessante osservare anche la struttura del romanzo c'è un critico francese esperto di dagerman philippe bouquet che io trovo abbia scovato una espressione perfetta per definire questo libro che è una bozza geniale di un decameron dell'angoscia perché come il decameron è strutturato in storie concatenate tra loro c'è una una sorta di cornice anche lui come nel decameron e chiaramente l'angoscia è più che palpabile andrea ne accennava al tema della paura fondamentale lascerò poi volentieri la palla a lui da questo punto di vista però ecco lo stile che uno stile di rottura e fu di rottura anche quando uscì alla fine del 45 rileggerlo adesso paragonandolo al dagerman che pochi anni dopo si evolverà in maniera differente è davvero affascinante e nel contempo ripeto non è una nera un mero sfoggio di bravura e di genio è un libro che avvince che coinvolge i cui personaggi sono estremamente ben delineati e quindi colpisce fortemente il lettore anche nella sua divacità stilistica ecco la definizione sul sul decameron effettivamente è molto affilata e appunto la sensazione è che da dagerman utilizzi questo stile così ricco pieno di similitudini nel quale si occupa costantemente dello stato d'animo dei personaggi molto spesso c'è un c'è un deficit di azione rispetto all'immaginazione no appunto altrove dagerman è molto secco e molto asciutto e racconta cose incredibili come cito appunto il libro che me ne ha fatto innamorare che è autunno tedesco reportage della germania post bellica dove si raccontano delle cose veramente si raccontano dei dei fatti delle nuove relazioni sociali dei nuovi ruoli dei delle nuove gerarchie che sono incredibili anche agli occhi dei suoi contemporanei di allora ma soprattutto agli occhi nostri che non non abbiamo più la memoria di cosa fosse la germania subito dopo la guerra qua invece molto spesso gli eventi sono dei piccoli eventi quasi quasi onirici o momenti focal momenti centrali dal punto di vista psicologico no che sembrano a n dimensioni fortissimi e poi i personaggi continuano a rimuginare prima e dopo rispetto a questi incontri a questi eventi la sensazione è che questa ricchezza stilistica serva a rappresentare proprio il modo in cui la paura e l'inquietudine serpeggiando nella società e nelle vite di tutti le rendano una continua frustrazione no in cui si immagina tutto e e e ciò che si fa è una porzione minuscola è venuta male di quello che si pensava e si temeva prima ora posto che io abbia detto delle cose sensate lagerman fa prendere un po anche così suscitare delle dei pensieri forse un po troppo arzigogolati chiederei ad andrea di approfondire questo fatto che secondo me nel nel romanzo e emerge molto 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 cioè come i personaggi siano effettivamente preda di pulsioni più grandi di loro e più forti della loro personalità in quel momento che sono quelle delle delle gerarchie delle paure sì io credo anzi grazie per per questa per questo link di discussione nel senso che non anche se so che mi sto ripetendo rispetto a quello che avete detto anche voi a me ha colpito in modo devastante anche la la giovane età perché insomma 22 anni scrivere una cosa come il serpente io la trovo la trovo incredibile eh io sono convinto che anche io ho letto gli altri testi di dagerman e e condivido l'amore soprattutto per autunno tedesco perché autunno tedesco secondo me ha una forza incredibile nel nel racconto eh però qui abbiamo tutt'altro cioè qui veniamo sballorditi come lettori da quello che sono il concatenarsi eh di più che eventi emozioni cioè a me quello che ha colpito di della lettura del serpente che mi sono letto in realtà due volte nel breve periodo mi sono letto prima il la versione digitale e mi ha dato tante emozioni e poi mi sono riletto il cartaccio che comunque sendo un po' feticista della carta mi ha mi ha dato ancora più emozioni e in queste due letture quello che mi ha colpito è proprio il fatto che per capirlo veramente il serpente quindi questo è un consiglio di lettura che do a tutti quelli che ci stanno ascoltando e che si prenderanno questo meraviglioso libro è che bisogna proprio leggerlo tutto e con poche pause nel senso che secondo me la cosa migliore è leggerlo tutto di un fiato magari non in una giornata però in una settimana massimo io do questo consiglio perché si capisce eh tutta la creazione sia stilistica che dei personaggi di dagerman solamente se si fa è come se a un certo punto e questo è un po' un paragone che faccio col col mio lavoro con quello dell'etnografo dell'antropologo quando si fa ricerca sul campo si sta fissi sul campo concentrati su quello che vuoi capire poi però a un certo punto devi alzare la testa e guardare quello che succede fuori da l'azione su cui ti sei concentrato ecco io ho vissuto così il serpente ma ci sono immerso e vivevo con quei personaggi angoscianti eh inutili a volte no nel loro modo di anche di di vivere la propria vita adesso appunto abbiamo deciso di non di non dare troppi ingrediente però qualcosa puoi sentiti libero in una certa misura nel senso che ci sono dei personaggi adesso magari appunto non lo contestualizziamo precisamente però personaggi come possono essere gli incontri in bicicletta su una strada desolata di un di un ragazzo che fa il macellaio cioè per me quella cosa lì nel momento in cui l'ho letto ho detto vabbè questo personaggio è interessante ma non mi aveva colpito così tanto quando poi ho inserito quella violenza eh quella appunto quel quella gerarchia anche un po patriarcale che fuoriesce in questo testo ho capito cosa ha fatto Dagerman cioè ci iscrive tanti personaggi che noi comprendiamo solamente quando arriviamo alla fine del testo almeno questo è stato il mio modo eh di leggere il libro e quindi alzare lo sguardo come con la con la metafora che ho fatto con la comparazione che ho fatto con il lavoro etnografico che a un certo punto alzi la testa dai personaggi e lo iscrivi in quello che è tutto il lavoro di Dagerman c'è una critica devastante assoluta a quello che è proprio il discorso della gerarchia del potere dominante dello stato delle regole calate dall'alto perché poi appunto altra cosa importante e quindi qui si spoiler però c'è scritto anche sulla quarta di copertina è che il serpente che c'è il serpente perché c'è e anche lì io all'inizio dall'alto della mia stupidità non è che mi entusiasmava molto questo serpente messo dentro la sacco non capivo e invece poi dall'alto della mia stupidità a un certo punto ho capito che il serpente chiaramente non rappresentava soltanto l'animale ma rappresentava una paura strisciante che ha Dagerman e che abbiamo noi come esseri umani che stiamo al mondo che viviamo la vita quotidiana cioè il senso di inadeguatezza di paura che abbiamo tutti quanti chi più chi meno e poi l'altra cosa importante è che oltre alla paura è la gestione della paura e questa è l'altra cosa secondo me potentissima che esce da questo libro cioè chi gestisce la paura è come la gestisce e anche la questione di raccontarci così bene i militari che aspettano una guerra che fra virgolette non gli arriva in casa anche quella lì è tutta una cosa che secondo me si capisce quando si arriva alla fine perché è tutta una strutturazione anche su che cos'è questa paura su che cos'è la noia su che cos'è la violenza e ce lo fa capire con una pittura letteraria veramente meravigliosa questo è stato il mio modo di leggere il il serpente a questo punto a questo punto dopo questo appassionante resoconto del della relazione con il libro di Andrea chiedo a Giorgio come l'ha vissuto lui insomma che cosa che effetto gli ha fatto perché effettivamente la lettura del serpente adesso ne parliamo ne parliamo così e sembra un film di Jodorowsky non è così tanto una cosa inafferrabile e simbolica però è un romanzo nel quale esiste proprio una rete che di simbolismi continua sia nell'immaginazione nei sogni nei sogni a occhi aperti e nei sogni effettivi dei personaggi nelle loro frustrazioni esistono delle linee che all'inizio sembrano andare per fatti propri un po' alla cieca e poi come diceva Andrea trovano una loro un loro percorso più o meno chiaro non chiaro in maniera puntuale ma dal punto di vista del concetto poi tutto più o meno torna Giorgio sì io ho avuto una sensazione sensazioni simili a quelle di Andrea quando ho iniziato a leggerlo ricordo che avevo letto già un qualche recensione qualche saggio che era uscito in precedenza in Francia sul sul serpente quindi mi aspettavo l'elemento metaforico e simbolico dell'animale al di là dell'animale stesso però ho deciso di cercare fare piazza pulita farei pochi dei miei pregiudizi le mie preletture e calarmi dentro e devo dire che Dagerman mi ha mi ha proprio sviato per cui sono partito e c'è questa atmosfera quasi bucolica un po' iniziale molto pacifica e poi improvvisamente succedono una serie di cose una più stramba dell'altra e davvero ecco questo affastellarsi di immagini di piccole narrazioni di micro sequenze narrative e di personaggi uno più diverso dall'altro all'inizio mi aveva quasi frastornato perché non ero pronto a questo Dagerman non avevo ancora incontrato questo questo tipo di Dagerman e poi lentamente appunto si prendeva prendeva forma il quadro generale come ha detto Andrea bisognava poi alzare la testa anch'io condivido assolutamente l'idea di una lettura immersiva di questo libro sia perché richiede comunque un certo livello di concentrazione sia perché si rischiano di perdere delle sfumature che poi a lettura terminata trovano un compimento preciso e a me hanno impressionato la quantità di violenza sotterranea e non sotterranea che c'è in questo libro che talvolta assume e lo ricordo ancora Fulvio Ferrari nella postfazione anche degli elementi ironici degli elementi comici se vogliamo ma di una comicità venata di tragedia e quasi con un ghigno buffonesco mi ha colpito questo mi ha colpito tantissimo ma magari ne parleremo più avanti il fatto che Dagerman anticipi in qualche modo tutti i temi che affronterà in seguito c'è la guerra di Spagna la critica libertaria al concetto di dominio di potere che ha già sollevato Andrea che l'idea del famoso cerchio di ferro a un certo punto c'è un reduce della guerra di Spagna che Edmund nel romanzo che commenta parla discute l'idea di questo cerchio di ferro che si stringe attorno alla testa impedendo paralizzando in qualche modo le persone che quello determinato dal dominio e quindi lui dice le possibilità di una rivolta di un anarchismo attivo dopo la Spagna finita la Spagna non ci sono più e questo si lega alla terza cosa che mi ha colpito ovvero il fatto che questi personaggi si muovono tutti in un mondo un po' abulico un po' spaisato che è quello della Svezia neutrale della guerra e del dopoguerra ma nel contempo venato appunto da questi improvvisi scoppi di aggressività violenza cattiveria incapacità di realizzare qualcosa nella vita alcuni personaggi si alcuni soldati proprio si distruggono di alcol a un certo punto altri cercano di sedurre la ragazza anche usando metodi piuttosto spicci e ce n'è uno uno solo che a parte Edmund l'anarchico che è Scriver che alla fine del romanzo forse questa probabilmente perché per vicinanza di mestiere ma da scrittore è la cosa che più mi ha commosso e colpito che è l'elogio finale di Scriver, personaggio scrittore verso la potremmo dire l'accettazione della paura, l'accettazione di avere paura, di provare paura fino in fondo e quindi di cominciare a entrare in quella dimensione che Dagerman espliciterà poi meglio con l'età un pochino più avanzata dello stabilirsi in quel mondo paradossale che è la letteratura quindi non rifiutando l'inedia, l'inettitudine, la bulia di cui ho parlato e gettandosi e qua gettandosi e non è solo metaforico ma non vorrei dire troppo nel mondo della paura, dello spavento, abbracciandolo fino in fondo ma cercando di trarre da esso un nuovo coraggio e soprattutto una lingua, una forma una capacità formatrice del mondo che per Dagerman fu la lingua, fu la scrittura Per chi non avesse, tra quelli che ci stanno seguendo e che approfitto per ringraziare chi non avesse dimestichezza di Dagerman può pensare a un autore che si è tolto la vita da giovane che è noto per aver scritto delle cose anche molto intense e anche molto così poco concilianti con se stesso e con il mondo e quindi può pensare di trovarsi davanti a uno scrittore di una certa pesantezza, di una certa pesantezza o cupezza vi invito a fidarvi di me quando vi dico che Dagerman in qualche modo riesce a essere quello scrittore lì, e l'ho detto nel podcast 20 volte, scusate per quelli che l'hanno sentito tutto ma per me è importante, riesce a essere quello e allo stesso tempo essere un autore di straordinaria umanità cioè mentre incarna la fine delle speranze, cioè la presa di coscienza di una specie di spietatezza dell'esistere rispetto al soggetto, allo stesso tempo c'è un'umanità rivolta a ogni angolo di quello che lui descrive che è quello che secondo me rende il suo messaggio così appetibile anche se a volte è difficile, cioè il fatto che sia vissuto dentro a una vicinanza con i personaggi che è veramente così intima che sembra che lo stile, quando racconta questi momenti di panico questi momenti di terrore, molto spesso lo scrittore fa dei passi indietro e guarda il personaggio come un insetto in un terrario, un rettile in un terrario e Dagerman no, Dagerman e il suo stile in questo libro si rotolano nella terra insieme ai personaggi che scappano e che si nascondono cioè partecipe di tutta la loro umanità come fa praticamente sempre e qui lo fa in questo modo così da 22enne possiamo anche semplicemente così prendere atto del fatto che a 22 anni lui volesse scrivere tanto volesse scrivere esplosivo, volesse scrivere pirotecnico no Andrea? Sì assolutamente, cioè dal mio punto di vista a parte che concordo con te, forse io prima come hai detto tu però mi scuserai perché mi sono fatto prendere da come mi ha preso Dagerman ci facciamo prendere tutti, non preoccuparti vuoi capire, io non volevo darle un'immagine negativa a Ocupa secondo me lui è super umano nel modo di raccontare e non è neanche del tutto negativo, anzi cioè noi abbiamo un'opera di Dagerman che comunque ci parla anche del faro dell'utopia della possibilità del cambiamento, della rivolta e questo non è poco, cioè è qualcosa di molto importante da sottolineare però è anche vero che c'è l'angoscia in Dagerman e c'è The Band è scritta nel senso che il suo racconto soprattutto in questo testo perché come dici tu probabilmente è un libro di, è un esordio è un libro di un 22enne scritto in quegli anni dove la situazione comunque come dici tu lui la sentiva sul suo corpo e il corpo di un 22enne estremamente preparato e colto comunque un Jimi Hendrix della letteratura si mette a scrivere e fa trappelare quello che sono i sentimenti vivi che ha sulla sua pelle in un momento tragico come quello che stava vivendo un giovane inserito nel dopoguerra dopo la seconda guerra mondiale quindi sicuramente i personaggi sono descritti anche in un modo a volte molto, non userei la parola stereotipo perché non sarebbe giusto nei confronti di Dagerman però rispetto ad altri testi più maturi di Dagerman c'è qualcosa che ogni tanto ti fa pensare alla sua giovane età soprattutto su determinate descrizioni della vita di caserma almeno io questo è quello che se devo pensare a un momento in cui ho notato un po' una penna più giovane rispetto a quello che farà dopo è quando ci sono le descrizioni dei momenti del soldato qualunque lo scherzo adesso mi sfugge il termine da caserma come si dice comunque quando qualcuno insomma viene preso in giro nei bagni gli vengono fatte appunto pesare le quotidianità che comunque a me è piaciuto perché esagerando e qui so che sto esagerando e quindi ci sono dei filosofi che si arraviranno tantissimo io in Dagerman ci vedo anche a volte qualcosa che verrà dopo che è la banalità del male di Anna Arendt cioè sul fatto che appunto banalizzando questa teoria e questo discorso a volte il male non deve essere per forza un gigantesco male non deve essere il male assoluto ma si costruisce nel quotidiano perpetuandosi in qualcosa che addirittura ci sembra noioso e inutile e quando c'è un'immagine per me che è molto interessante che arriva già dopo poche pagine dopo cento pagine adesso non ricordo precisamente che è quando lui descrive le case dell'entroterra e ci sono questi bagni messi ordinati in fila nell'esterno dietro le case e lui ci dà un'immagine potentissima, dirompente super critica ovviamente del militarismo perché lui dice che questi bagni sembrano i militari in fila quando margono e quindi questa frase che chiaramente dice tanto delle sue idee sul militarismo viene messa in un punto perfetto del libro dove comincia a capire veramente dove vuole andare Dagerman con questo suo primo esordio quindi io credo che la strutturazione dei personaggi è importante è importante perché ci porta a perderci inizialmente io ho scritto nella noia della caserma cioè io all'inizio mi stavo annoiando in senso positivo all'interno di questa vita militare inutile completamente inutile e poi invece questa vita inutile ci fa entrare nelle tante contraddizioni della vita di questi militari ribadisco e risottolineo e questo io l'ho notato già in altre cose di Dagerman c'è molto importante soprattutto se lo contestualizziamo negli anni in cui è scritto l'importanza delle voci femminili cioè delle donne di come le donne vengono raccontate nei testi di Dagerman io sono rimasto colpito anche in questo caso da questo primo esordio dove se io dovessi dire probabilmente sbagliando per un critico letterario che i sogni protagonisti fra i protagonisti più importanti di questo romanzo perlomeno per quello che si è sedimentato in me sono sicuramente delle figure femminili sembra quasi superfluo dirlo a un festival organizzato da Iperborea è anche stereotipato ma dentro al dibattito sanissimo che in questi anni si fa rispetto all'identità di genere e al ruolo della donna se uno va a rivedere dei film degli anni 50 di Bergman o Berryman come dicono gli svedesi la sensazione che ci si possa fare la firma cioè dici ma guarda mi va bene così se fosse questo oggi il ruolo della donna in Italia nella sua rappresentazione quello dei film di Bergman di metà anni 50 io ci sto già mi va già bene e in questo romanzo effettivamente sì la rappresentanza è decisamente è molto forte il peso delle figure femminili volevo chiedere questa cosa a Giorgio perché nonnismo era la parola bravo il nonnismo che è parte di quelle piccole di quelle piccole angherie di cui è fatto questo romanzo i personaggi di questo romanzo tra di loro prima di tutto possono esercitare delle forme di violenza senza che tu può esserci un crescendo ma a volte sono proprio banali sono stupide sono cretine insensate e il nonnismo fa parte di questo lato delle azioni dei personaggi del serpente che ti fanno dire mentre le leggi e ti stai affezionando ma guarda che cretini e questo volevo chiedere a Giorgio come scrittore ti capita di ti è capitato mai di 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 farlo tu in prima persona e che sensazione hai avuto osservando i personaggi di Daggerman che molto spesso si comportano proprio per via dell'influenza di questo serpente che aleggia su tutto e striscia fra le gambe di tutti anche come degli sfigati cioè della gente che non ce la fa che la sbaglia nelle relazioni sentimentali nel desiderarsi nello sfuggire dal potere o nello starci dentro si percepisce proprio l'incapacità di gestire soprattutto nel corso del romanzo che poi si risolve di più ma l'inettitudine generale ti è mai capitato di di costruire dei personaggi che fossero guardandoli leggendoli scrivendoli così degli incapaci in tanti aspetti mi è capitato non non in questa maniera così generalizzata come fa come come fa Daggerman e non probabilmente ma questo è scontato aggiungerlo con la bravura con il talento di Daggerman quello che che è interessante leggendo il serpente io credo che la parola chiave che hai usato sia proprio stupidità ovvero il male che compiono che come dice Andrea non è non deve essere necessariamente un leviatano che stringe ma può essere anche qualcosa di estremamente spicciolo banale quotidiano è molto stupido talvolta sembra un rimedio cretino alla noia perché molti di questi personaggi sono terribilmente annoiati sono immersi in questa cappa da un lato di conformismo e di gerarchia che li ottunde e dall'altro sono sono anche responsabili naturalmente in prima persona della loro cretineria e del male che compiono quindi sono anche in prima persona molti piuttosto mediocre c'è a un certo punto Sorenson che è uno di questi soldati che vaga in giro per la città e vede un ragazzino che viene adescato da un tizio olosco è uno dei tanti quadretti che Dagerman mette come tasselli in questo romanzo e che a una lettura disattenta potrebbero sfuggire e lui dice potrei intervenire non si capisce cosa sta succedendo ma rinuncia a farlo perché preferisce guardare dall'altra parte e lui stesso pensando riflettendo su quello che appena ha fatto dice ho sacrificato questo ragazzino e quando lo ritrova più avanti vede sul suo volto una smorfia di disgusto e mi sono segnato la frase lui dice disgusto per il mondo ripugnante degli adulti per la doppiezza delle loro azioni per la vigliaccheria vale a dire per la paura di avere paura è questa l'idea fondamentale che come dicevo scriver a cui scriver reagisce l'alteriore di Dagerman lo scrittore reagisce cioè si è tutti così terrorizzati dall'idea di affrontare una paura che poi è la paura della responsabilità delle proprie azioni di una libertà responsabile che si preferisce abbandonarsi al piccolo male quotidiano al conformismo all'incapacità di prendere realmente la vita le redini della propria vita e questa cosa nel serpente viene fuori splendidamente aggiungo e chiudo senza una senza che la cappa sia una cappa anche per il lettore ovvero questa atmosfera di grigiore e di conformismo non si traduce in un romanzo pesante noioso faticoso richiede chiaramente uno sforzo è un'opera di grande letteratura è un'opera di grande letteratura modernista quindi un po' di sforzo lo richiede ma bisogna dissipare l'idea che sia un romanzo difficile impossibile arzigogolato anzi ci sono delle parti in cui è proprio anche molto molto fresco molto vivace e parti dove invece la narrazione è come l'alveo di un fiume che si restringe o si allarga di conseguenza si restringe o si allarga a seconda delle vicende raccontate abbiamo quasi finito il nostro tempo e chiedo un'ultima cosa a Andrea questo elemento anche dell'assenza di una famiglia stabile che adesso senza voler fare del biografismo così un po' dell'ipermercato però Dagerman aveva vissuto Dagerman è figlio di una famiglia sfasciata abbandonato dai due pezzi della famiglia in momenti diversi e comunque passa l'infanzia con i nonni vanno e vengono padre e madre e i rapporti saranno sempre scassati hai trovato che insomma io ho trovato che anche questo ci sia cioè la relazione la famiglia in genere è sempre fonte di asperità di difficoltà e anche oggetto di violenza e dall'altra parte ci sono i militari diciamo lo Stato la società la Svezia che sono altrettanto traballanti no? Sì assolutamente anche su questo sembra che avevamo concordato tutto in realtà vi assicuriamo che non avevamo concordato ma sono d'accordissimo anche su questo su questo tuo lancio cioè è presentissimo la questione della famiglia in questo testo e della critica cioè lui praticamente nel suo primo esordio nel suo esordio fa capire bene due tre cose cioè mette dei paletti e quindi si capisce subito come la pensa cioè critica alla famiglia critica allo Stato critica al militarismo cioè diciamo che lui si iscrive all'interno di un discorso completamente libertario dove c'è una critica totale a quelle che sono date di solito come cose giuste per norma e poi sicuramente rientra anche la sua esperienza Colin Ward altro scrittore che credo che posso dire che sia che Giorgio amiamo particolarmente è uno di quelli che dice che comunque il pensiero libertario il primo seme che si nasconde sotto la neve che è far germogliare il pensiero cosciente libertario nasce da un disagio che viviamo e sicuramente Dagerman inizia il suo percorso di coscienza libertaria e poi letteraria da un punto di vista anche di quello che era stata la sua esperienza personale di disagio in questo caso familiare che c'è tutto in questo in questo testo per me per esempio una delle cose che mi ha colpito tantissimo di questo di questo libro è già il rapporto madre figlia il rapporto madre figlia che a me ha devastato personalmente cioè quelle scene sono bellissime scritte in una maniera fantastica sono dovuto tornare indietro a rileggerle perché secondo me lì c'è tanto appunto di critica a quella gerarchia che non è soltanto nella caserma ma che è anche appunto nelle famiglie quindi questa cosa qua assolutamente c'è e credo che sia centrale nell'opera nell'opera di Dagerman vorrei tornare se posso soltanto un secondo e poi chiudo su una cosa importante che ha già accennato Giorgio ma che appunto secondo me è molto importante del testo e che ci collega anche alla società contemporanea che è quello di questo cerchio di ferro cioè sul fatto che lo Stato lo Stato e tutte le sue insomma diramazioni sempre di più ci chiudono questo ferro questo cerchio di ferro intorno intorno alla faccia e non non ci rendiamo più conto di quanto abbiamo bisogno di sicurezza ma che questa sicurezza ci toglie le libertà e qui appunto vorrei concludere dicendo che sicuramente il discorso di Dagerman è contemporaneo e chiaramente non parlo di quest'ultimo periodo pandemico che stiamo vivendo ma parlo in generale di come viviamo nella società della sicurezza solo che questa sicurezza per concludere citando non Dagerman ma un antropologo che si chiama Padurai ci rende sempre più tutti sicuri da morire cioè siamo talmente tanto sicuri che non possiamo più vivere e questo è un pochino quello che secondo me Dagerman ci fa capire in modo preciso puntuale e scritto in una maniera meravigliosa avrete capito che il libro ci è piaciuto molto come ci piace l'autore abbiamo parlato con Andrea Stide e Giorgio Fontana di Stig Dagerman e del suo romanzo di esordio finalmente pubblicato in italiano da Iperborea Il Serpente grazie Andrea grazie Giorgio grazie mille per essere stati con noi grazie e i libri di Dagerman non sono tanti ma sono tutti belli sono consigliati tutti grazie per averci ascoltato e buoni boreali a tutti grazie